In questa mostra è possibile anche incontrare i volti dei grandi committenti che hanno fatto la Torino Barocca, come in questo dipinto che ritrae Vittorio Amedeo di Savoia, un grande dipinto di parata. Sullo sfondo vediamo l'esercito Sabaudo, ai suoi piedi la canna di un cannone, l'immagine gloriosa di una dinastia che ha sempre avuto gli interessi militari come degli interessi principali e che attraverso l'impegno del suo esercito e la finezza della sua politica è riuscita a trasformarsi da una piccola dinastia di passo a cavallo delle Alpi a una grande casata entrata nel gioco della politica europea. Grazie a tutti!